Manutenzione per le case popolari di via Carlo Alberto dalla Chiesa. Il neoassessore alle politiche sociali, Antonello Allegrino, avvia il suo mandato con un sopralluogo votato alla presa visione della situazione degli edifici che da decenni non hanno ottenuto lavori, interventi che presto coinvolgeranno anche via caduti per servizio e altre zone. Preso visione, sto prendendo visione di quella che è la realtà delle case comunali che sono state assegnate in passato ai nostri cittadini. Devo dire che in realtà queste abitazioni sono in una condizione buona. In particolare qui a via Carlo Alberto dalla Chiesa quello che verrà fatto a breve sarà un servizio di risistemazione degli infissi. e quindi questo darà la possibilità a numerosi numeri civici e quindi a numerosi appartamenti di recuperare una qualità della vita di un certo tipo. Un caso sociale di malessere e di difficoltà delle famiglie che l'assessore Allegrino aveva già denunciato a pochi giorni dalla nomina. Serve l'intervento delle istituzioni e solo ieri infatti il caso di uno sgombero che ha visto coinvolti anche dei minori. La famiglia stessa è stata assolutamente sgomberata, non era assolutamente possibile far vivere quel nucleo familiare dentro in quelle condizioni, quindi lì è un tipo di servizio che è prettamente di carattere sociale. I bambini sono stati affidati proprio ai servizi sociali e quindi sono stati assicurati in una condizione che fino a quando il nucleo familiare non sarà in grado di poterli riprendere, quindi una condizione di assoluta e totale dignità, naturalmente staranno bene presso le strutture in cui sono stati affidati.